Con 171 sì e 135 no, il Senato ha approvato nella notte la fiducia posta dal governo sulla legge di stabilità. Per essere approvata bastavano 154 voti. Ora la legge passa alla Camera. Forza Italia ha votato contro ed è uscita dalla maggioranza. La decisione di Forza Italia porta chiarezza politica. Ora l'esecutivo è più forte, ha commentato il Premier Enrico Letta. Nel maxi emendamento approvato dopo mezzanotte c'è l'introduzione della IUC in posta unica comunale che somma la tassa sulla casa, quella sui rifiuti e sui servizi come trasporti e illuminazione. La detrazione delle tasse sul lavoro che arriverà al massimo a 225 euro e un primo passo verso un reddito minimo per i più poveri finanziato dal taglio delle pensioni sopra i 90.000 euro. Nel pomeriggio il Senato voterà a scrutinio palese la decadenza di Berlusconi da senatore e dopo la condanna definitiva nel processo Mediaset scontato il sì con i voti del PD del Movimento 5 Stelle. Forza Italia e il nuovo centrodestra di Alfano voteranno contro. Berlusconi non sarà presente in aula e aspetterà il risultato davanti a Palazzo Grazioli dove ha chiamato a manifestare i suoi sostenitori contro quello che ha definito un omicidio politico. La 7 seguirà il tutto con uno speciale dalle ore 16.30. Serata di Champions in chiaroscuro per le squadre italiane mentre il Milan vince 3-0 a Glasgow con il Celtic, il Napoli perde a Dortmund con il Borussia. Per la qualificazione si deciderà tutto nella prossima e ultima sfida del girone. Stasera in campo la Juventus che è obbligata a vincere contro i danesi del Copenhagen per andare avanti nel torneo. Buongiorno e benvenuti a questa prima edizione del telegiornale della 7. Lo stiamo dicendo, lo ripetiamo, 24 ore cruciali per quanto riguarda la politica italiana. Nella notte, lo avete sentito dai titoli, la fiducia del Senato alla legge di stabilità. Forza Italia che è uscita dalla maggioranza. Vediamo allora come è andata e quali sono i contenuti di questo maxiemendamento. Quella che lo attende è una giornata importante per Ricoletta dopo l'uscita di Forza Italia dalla maggioranza. Sì, ma soprattutto dopo il via libera, la legge di stabilità è arrivata nella notte dal Senato con 171 voti a favore e 135 contrari. Nel testo di quella che un tempo si chiamava finanziaria, anche alcune novità annunciate, la nuova aliquota sugli immobili ad esempio si chiamerà IUC e dovrà essere pagata anche dai proprietari della cosiddetta abitazione principale solo per la parte che riguarda i rifiuti. Per chi ha redditi inferiori a 32.000 euro, hanno i confermate le detrazioni previste, mentre sempre sul fronte degli interventi per le fasce più deboli sono state inserite misure nuove, come il reddito minimo di inserimento ad esempio relativo ad alcune aree metropolitane finanziato da un contributo di solidarietà in arrivo dalle pensioni al di sopra dei 90.000 euro. Ancora nulla da fare invece per la cessione delle spiagge di proprietà del demanio a soggetti privati. La legge ora sbarcherà a Montecitorio dove potrebbe subire alcune modifiche, ma alla fine 386 voti che vengono dati per sicuri a favore del governo, con il quorum richiesto di 316, la dovrebbero fare entrare in porto senza grossi problemi. Il voto di Palazzo Madama di ieri sulla manovra è slittato di qualche ora dopo la decisione appunto di Forza Italia di mollare il governo delle larghe intese, scelta che ha obbligato Letta ieri ad una visita al Quirenale per fare il punto della situazione con il capo dello Stato. Per Letta e Napolitano la fiducia significa riconoscere l'esistenza di una nuova maggioranza sufficiente ad andare avanti senza rimpasti, nonostante la defezione dei sei tra viceministri e sottosegretari di Forza Italia. E oggi è il giorno del voto del Senato sulla decadenza di Sivio Berlusconi. Berlusconi, per quello che si sa, ovviamente il condizionale d'obbligo non dovrebbe essere in aula al Senato, ma parteciperà invece alla manifestazione che è stata indetta davanti a Palazzo Grazioli, dove dovrebbe anche parlare. Però tutto è iniziato comunque ieri con l'uscita di Forza Italia dalla maggioranza. Tutto in una giornata. Voto per la decadenza di Sivio Berlusconi da senatore è uscita di Forza Italia dalla maggioranza. Il capogruppo azzurro alla Camera lo annuncia chiaro e tondo è la fine del governo delle larghe intese, ci sarà un governo di centrosinistra. È la colpa ufficialmente della legge di stabilità, spiegano gli uomini di Forza Italia. Il maxiemendamento, dicono, così come è stato scritto, è assolutamente irricevibile, non ci sono più le condizioni per stare nella maggioranza. Dunque, e di questo i forzisti hanno anche informato Letta e Napolitano, si tratta di una decisione che non dipende dalla vicenda della decadenza, ma da una manovra che non ha accolto le richieste di Forza Italia. Ora mi auguro che Letta abbia la sensibilità di salire al Quirinale per trarre le conseguenze del nostro gesto, puntualizza Romani. E il Premier, poche ore dopo, si reca dal Presidente Napolitano, ma il vertice si conclude non nel modo sperato da Forza Italia. Infatti, una nota del Quirinale spiega la necessità di verificare la sussistenza di una maggioranza sarà soddisfatta in brevissimo tempo durante la seduta in corso al Senato con la discussione e la votazione sulla già apposta questione di fiducia. Dunque, Napolitano e Letta stoppano il tentativo degli uomini di Berlusconi di aprire una crisi di governo come conseguenza di ciò che chiedevano, le dimissioni del governo a causa dell'abbandono della coalizione da parte di Forza Italia. E Anna Maria Bernini risponde «Dissentiamo dal Quirinale, serve un nuovo voto di fiducia». Ci prova in vano anche il Presidente della Commissione europea, Barroso, a chiedere al Cavaliere di restare nella maggioranza e votare la legge di stabilità. Ma per l'ex Premier il dado è tratto e annuncia una nuova campagna di contestazione e di lotta. Sarà solo l'inizio. Con queste parole, infatti, informa della sua decisione di disertare la seduta di oggi del Senato, che alle ore 19 voterà sulla sua decadenza, e al contrario di essere presente alla manifestazione in via del plebiscito, sotto la sua residenza romana, che ci sarà a partire dalle 14 di oggi. Berlusconi respinge anche le accuse di identificare nell'opposizione antistituzionale un invito rischioso per l'ordine pubblico, come sembrava ad ombrare la nota con la quale il Quirinale deplorava la richiesta di grazia a motu proprio e le sferzate alla magistratura. La manifestazione è legittima, risponde l'ex Premier al PD, che parla di strategia dell'attenzione e antistato. E la 7 seguirea la giornata di oggi con uno speciale del telegiornale a partire dalle 16.30, condotto in studio da Enrico Mentana, con ospiti in studio e collegamenti esterni con il Senato e con Palazzo Grazioli. E intanto dalle fila del PD naturalmente si guarda quella che è la nuova maggioranza, mentre continua la corsa alle primarie. Il sindaco di Firenze, lo sappiamo appunto in corsa per la leadership del PD, ha già fatto sapere che se diventerà segretario intende dettare l'agenda all'esecutivo. Sebbene annunciata l'uscita di Forza Italia dal governo, crea qualche preoccupazione fra i democratici. Berlusconi ha iniziato la campagna elettorale, occhio a Berte Matteo Renzi, che non nasconde i timori per i futuri assetti nella maggioranza. Assai risicata adesso dopo che il Cavaliere ha deciso di passare all'opposizione. Ma Renzi guarda avanti e, come è più volte messo in chiaro, si prepara a dettare la sua agenda al governo, sempre che diventi segretario del PD. Fra le priorità del sindaco ci sono le riforme costituzionali, la nuova legge elettorale, la fine del bicameralismo perfetto, la riduzione del numero dei parlamentari e la riforma sul finanziamento ai partiti. Punti fermi sui quali il sindaco di Firenze sta focalizzando la sua campagna elettorale, ma che dovranno necessariamente essere ricalibrati secondo i nuovi equilibri all'interno della maggioranza, dove adesso il PD ha un peso notevole per quanto riguarda il sostegno all'esecutivo. Non possiamo passare da una stagione in cui la destra minacciava la caduta di Letta a un'altra in cui sarebbe il PD a fare la stessa cosa, attaccato l'altro candidato alla segreteria, Gianni Cuperlo, anche se ha ribadito che il governo va incalzato e che adesso non ha più alibi. Noi votiamo convinti la fiducia, ma nei prossimi mesi sia chiaro siamo il PD, non l'Avis, ha detto il renziano Paolo Gentiloni, replicando alle accuse di voler far cadere il governo Letta arrivate dall'esponente dei popolari Beppe Fioroni. Ma se i renziani sembrano aver archiviato l'ipotesi sfiducia, sono anche convinti che dopo il congresso sia necessario stringere un nuovo patto con il premier e con le altre forze di minoranza che sostengono il governo, proprio per dare respiro all'esecutivo. Molto però dipenderà dal risultato delle primarie, se sarà Matteo Renzi a vincerle. L'obiettivo del sindaco è quello di portare a Gazebo due milioni di elettori e prendere almeno il 50% dei voti più uno, anche se fra i suoi restano i timori di una scarsa partecipazione. Intanto in Germania invece è stato raggiunto un accordo per le larghe intese, cristiano-democratici, social-democratici tedeschi hanno appunto raggiunto l'accordo nella notte per la formazione di un governo di larghe intese, lo hanno reso noto due alti esponenti, conservatori, su Twitter. E torniamo in Italia, dove ieri c'è stato il vertice Italia-Russia, nel corso del quale Enrico Letta e Vladimir Putin hanno firmato 28 accordi commerciali. Naturalmente non si è potuto non parlare di Berlusconi, lo ha fatto in particolare Putin. Vediamo cosa ha detto. Dare più lavoro ed evitare il caos politico in Italia. Da sette mesi questo è il mio lavoro. Dopo una stretta di mano e un sorriso sono queste le parole con cui Enrico Letta ha accolto ieri sera a Trieste Vladimir Putin. Serve prudenza, il premier lo sa. Così, su Silvio Berlusconi, che invoca la piazza, dice che ogni parola pronunciata a poche ore dal voto sulla sua decadenza da senatore sarebbe stonata. Poi torna all'Italia, al suo bisogno di riavviare la crescita e definisce fondamentali gli accordi firmati con Putin. Ma nemmeno il presidente russo può sottrarsi alla questione Berlusconi, che, spiega, è un amico e tale rimane, che ha fatto tanto per lo sviluppo dei rapporti tra i due paesi. Comunque, aggiunge Putin, noi non vogliamo interferire negli affari interni di un paese amico come l'Italia. Sarà, ma quando si tratta di affrontare il tema dei rapporti con l'Ucraina, l'inquilino del Cremlino sferra colpi sull'Unione Europea e su Bruxelles, che stanno cercando di strappargli un alleato strategico per associarla al gruppo dei 28 stati membri. Se l'Ucraina va con l'Unione Europea, noi strappiamo l'accordo di libero scambio che abbiamo con loro, dice Putin. Non possiamo accettare che le merci dei 28 entrino in Russia attraverso l'Ucraina senza pagare dazi doganali. L'Ucraina ha debiti con Mosca per 30 miliardi di dollari, aggiunge. A buon intenditor, poche parole. L'Italia ha rapporti eccellenti con Mosca, ripetono Letta e Putin. Insieme a loro sfilano ministri e amministratori delegati che, poco prima, hanno firmato 28 accordi istituzionali e commerciali. Uno, in particolare, crea un fondo da un miliardo di euro per sostenere le imprese italiane che investono in Russia e viceversa. Nel 2013, l'interscambio tra le due nazioni è aumentato del 25%, il volume di affari è prossimo a 30 miliardi. La Russia, dopo la Germania, è il secondo partner commerciale dell'Italia, il primo fornitore di gas in Europa. Sarà per questo che ieri, cifre alla mano, i temi politicamente sensibili sono rimasti fuori dai colloqui. Il Papa Bergoglio torna a far parlare di sé con un ultimo documento che è stato reso noto, si chiama Evangelii Gaudium e parla in sostanza sia di aspetti economici sia appunto del progetto del Papa di ridisegnare la sua chiesa. Nel documento molti leggono la rivoluzione gentile di Bergoglio, fondamentale l'esempio dei cattolici ad iniziare dei vertici ecclesiali. Questo appunto è il succo del documento. Dal momento che sono chiamato a vivere quanto chiedo agli altri, devo pensare anche ad una conversione del papato, scrive Francesco, che alla questione sociale dedica due dei cinque capitoli della sua esortazione. No alla nuova idolatria del denaro, dove regnano speculazione finanziaria, corruzione ramificata ed evasione fiscale egoista. Quest'economia uccide, dice Papa Bergoglio, l'inguità è alla radice dei mali sociali, così gli esclusi diventano degli avanzi. Così appunto Papa Bergoglio in quest'ultimo documento. Continuiamo a parlare però di economia perché arrivano ancora bacchettate all'Italia, questa volta provengono dall'Ocse e riguardano soprattutto la situazione dei precari e il loro futuro a rischio. Penalizzati oggi, penalizzati domani. I precari, che in Italia sono circa 3 milioni e mezzo e guadagnano in media poco più di 800 euro a testa al mese, rischiano di avere problemi anche quando saranno anziani e dovranno uscire dal mondo del lavoro. L'Ocse conferma infatti che la base contributiva si è ridotta e che quindi le nuove generazioni, oltre ad essere vulnerabili oggi, lo saranno anche domani e rischieranno quindi di percepire una misera pensione. In Italia nel 2012 i contributi previdenziali sono stati pari alla 33% del totale lordo della retribuzione contro il 19,6% della media Ocse nei paesi europei. In particolare in Francia i contributi sono del 17%, mentre in Germania arrivano al 19,5%. La spesa pensionistica quindi in Italia è tra le più alte al mondo, mentre la sua resa no. Difficile capire dove finiscano questi soldi. L'Ocse invece promuove la riforma Fornero, grazie alla quale l'Italia ha realizzato un passo importante per garantire la sostenibilità finanziaria del sistema pensionistico. Non sono però del tutto d'accordo gli economisti che ammoniscono. L'aumento dell'età pensionabile non è sufficiente per garantire che le persone rimangano nel mercato del lavoro. Oggi ci sono meccanismi grazie ai quali i lavoratori lasciano il mondo del lavoro in anticipo. In Italia infatti l'età effettiva nella quale si abbandona il lavoro resta ancora relativamente bassa. 61 anni per gli uomini, 60 anni e mezzo per le donne. Contro una media Ocse di 64,2 per i primi e 63,1 per le seconde. E veniamo alla cronaca. 30 e 26 anni di carcere per Amanda Knox e Raffaele Sollecito. Queste le richieste dell'accusa durante l'appello bis per l'omicidio di Meredith Kercher che si sta celebrando appunto a Firenze. Per la Knox sono stati chiesti 4 anni in più per calunnia nei confronti di Patrick Lumumba inizialmente accusato dalla ragazza della morte di Meredith. Per il sostituto procuratore Amanda e Raffaele avrebbero accoltellato la giovane inglese mentre Rudy Ghede la violentava. In primo grado a Perugia la Knox è stata condannata a 26 anni di carcere e sollicito a 25. Entrambi furono poi assolti in appello ma la sentenza è stata poi annullata dalla Cassazione. E ci spostiamo a Torino dove c'è stata una rissa nel Consiglio regionale del Piemonte. Tra le persone coinvolte c'è anche il governatore leghista Roberto Cotta e l'ex presidente Mercedes Bresso e questo a pochi giorni da un'altra rissa che c'è stata come sapete nel corso del Consiglio Comunale di Roma. Scontri fisici e tensione alle stelle. Questo è il clima che si vive nelle aule della politica locale. Dopo la rissa in Campidoglio a Roma ieri la bagar si è scatenata nei consigli regionali di Piemonte e Umbria. A Torino i toni si sono accesi quando è entrato in aula il leghista Roberto Cotta presidente della regione. Cotta risulta indagato dalla procura di Torino insieme a 42 consiglieri quasi tutti in quota PDL e Lega per l'utilizzo smudato dei rimborsi e spese. Le ipotesi di reato vanno dal peculato alla truffa al finanziamento illecito dei partiti e proprio l'inchiesta è stata l'argomento che ha incendiato la discussione. Cotta ha parlato di una campagna diffamatoria nei confronti della regione. L'ex presidente è candidata sconfitta da Cotta nel 2010 Mercedes Espresso invece anche lei indagata per finanziamento illecito ha interrotto il governatore sostenendo che tutta la maggioranza adesso dovrebbe fare un passo indietro. I capigruppo di Fratelli d'Italia e PD Franco Maria Botta e Aldo Reschigna hanno lasciato i rispettivi banchi e si sono avvicinati l'uno all'altro poi insulti urla e spintoni. Botta e il vice presidente del consiglio regionale Roberto Placido che era intervenuto per dividere i due consiglieri sono finiti a terra. La seduta è stata sospesa. Scena simile con momenti di tensione anche al consiglio regionale Umbro. Il capogruppo della Lega ha rovesciato una scatola piena di interrogazioni di cui da tempo il suo gruppo chiedeva conto e che fino a quel momento erano state ignorate dall'aggiunta. Uno degli assessori ha reagito con insulti e grida si è sfiorata la rissa. Tre giorni fa in Campidoglio invece la lite tra consiglieri sul bilancio della capitale era costata al sindaco Ignazio Marino una gomitata in testa. E adesso lo sport il martedì di Champions League rilancia il Milan ma mette nei guai il Napoli e questa sera in campo invece ci sarà la Juventus obbligata a vincere con il Copenaghen. Nella notte di Glasgow il Milan ritrova il gusto di vincere in trasferta dopo ben sei mesi ma soprattutto due campioni come Kakai e Balotelli. La rete di Super Mario ha messo il sigillo sul 3-0 rosso-nero ai danni del Celtic e per lui può costituire la svolta della stagione dopo mesi difficili. Balotelli non segnava con il Milan dal primo ottobre. Per lo staff di Allegri è stato fondamentale poi aver riabbracciato il brasiliano Kakà alla sua trentesima segnatura in campo europeo. Per qualificarsi basta adesso un pareggio l'11 dicembre a San Siro con l'Ajax vittorioso ieri contro il Barcellona. Sarà invece durissimo il cammino del Napoli sconfitto 3-1 a Dortmund. In svantaggio fin dall'avvio la squadra di Benitez è condannata non solo a battere fra due settimane la capolista Arsenal dovrà vincere con tre gol di scarto e sperare che il Marsiglia batta il Borussia. Sarebbe un autentico miracolo dato che i francesi sono ancora a zero punti. È durata solo sette minuti la speranza degli azzurri andati sul 2-1 con la rete di insigne. E poteva anche andare molto peggio il portiere Reina ha evitato un passivo più severo. Missione quindi quasi impossibile per il Napoli che ha letteralmente regalato la partita ai vice campioni d'Europa. Stasera sarà il turno della Juventus per la capolista della Serie A non ci sono alternative. In casa contro i danesi del Copenhagen terzi alle spalle di Real Madrid e Galatasaray è un punto in più rispetto ai bianconeri. Bisognerà soltanto vincere e il tecnico Conte lo sa benissimo. È una partita molto difficile perché non ci sarà un domani c'è l'oggi nel senso che conterà vincere assolutamente se vogliamo andare avanti in Champions League. L'assenza di Barzagli in difesa non spaventa più di tanto l'allenatore juventino che conferma in attacco la coppia Teves e Llorente decisiva in campionato con i suoi gol. Gol che hanno permesso a Conte di dimenticare in fretta in poco più di un mese il brutto capò in casa della Fiorentina. Bene, per questa edizione è tutto. Vi ricordo a partire dalle 16.30 lo speciale sulla decadenza di Silvio Berlusconi condotto in studio da Enrico Mentana con ospiti e collegamenti esterni. Adesso lascio la linea Paolo Sottocorona per le previsioni del tempo poi a seguire il dibattito di Omnibus condotto da Andrea Pancani. Per tutti gli aggiornamenti il sito internet e l'account Twitter. Vi auguro una buona giornata.